Abbiamo ascoltato il ministro Crosetto e venuto a riferire in Parlamento dopo una decina di minuti di esposizione abbiamo ricavato solo complottismi e vittimismi che confermano come questo governo tenti in tutti i modi di nascondere agli italiani la realtà di una manovra economica che prevede 2 miliardi di nuove tasse per i cittadini, nulla per la crescita del Paese. Il ministro ha lamentato un plotone di esecuzioni ad personam dopo che lui ha rilasciato quell'intervista a un quotidiano nazionale. Vorrei rassicurarlo che qui ad personam ci sono solo le fermate dei treni per i ministri e ci sono i privilegi di una classe politica che sembra riportarci indietro nel passato, un passato che grazie anche al contributo del Movimento 5 Stelle ritenevamo di aver definitivamente superato. Parlano di meritocrazia ma per loro la meritocrazia è nell'ambito ristretto delle cerchie familiari e parentali. Venendo più ampiamente al ragionamento che ha fatto il ministro Crosetto a seguito di quelle gravi accuse nei confronti della magistratura addirittura di fare opposizione all'azione del governo accusando il governo stesso di deriva antidemocratica, in realtà il ministro non è stato in grado di precisare nessun fatto e nessuna circostanza. Anzi, ha esposto un ragionamento che mi preoccupa perché denuncia una carente cultura delle istituzioni. Ha messo sullo stesso piano ad esempio un generale come Vannacci, il cui ruolo è gerarchicamente e funzionalmente asservito all'esecutivo, rispettivamente il ministro della difesa e il ministro degli interni, lo ha messo sullo stesso piano dei giudici che invece godono di garanzie costituzionali, di autonomia e indipendenza che sono essenziali per tutelare i diritti dei cittadini, sono essenziali per garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e sono essenziali per riconoscere a questo potere un ruolo distinto, terzo, rispetto al potere esecutivo e al potere legislativo. E c'è un altro aspetto fondamentale che denuncia una carente cultura delle istituzioni, un ministro Rosetto che peraltro, voglio aggiungere, appare anche il più attrezzato culturalmente per quanto riguarda i vari ministri. Quando ha ragionato di tutela dei diritti fondamentali, ha fatto anche una citazione, non sembra comprendere che è un passaggio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. La tutela dei diritti fondamentali è una tutela sovraordinata all'azione di qualsiasi esecutivo, all'azione a qualsiasi atto normativo dell'esecutivo e sovraordinata fino anche alla legge ordinaria del Parlamento, perché affonda nei principi costituzionali e oggi anche nei principi di diritto europeo. E la tutela dei diritti fondamentali va assicurata assolutamente dai giudici, costi quel che costi, a dispetto di qualsiasi esecutivo che pro tempore dovesse succedersi. E' questo che non è compreso. Quindi tutto questo ci fa pensare, ci preoccupa e il ministro ha detto che l'unica cosa positiva è che ha detto che tornerà in Parlamento per una più ampia discussione. Grazie. Per l'informativa a questo punto che cosa vi aspettate? Perché se oggi non ha circostanziato le accuse nei confronti della magistratura... Ci aspettiamo, se non altro, che si apra un dibattito civile e democratico che va fatto in Parlamento, in cui dobbiamo assolutamente assicurarci che al di là delle azioni di contrasto che stiamo facendo su tantissime iniziative e il governo che non condividiamo su tantissime inadeguatezze che emergano, che perlomeno i capisaldi e il nostro ordinamento democratico siano assicurati e siano rispettati. Grazie.